ma per andare per andare a marina di ragusa scusate ma per andare a manzallo per andare scusate ma per andare alla casa di montalbano la casa di montalbano deve andare a cosa ma questa è marina di ragusa hai sbagliato se deve andare a casa di montalbano casa di montalbano non lo so dove questa qua è marina mi dispiace la casa di montalbano come si fa? ah si? allora va dritto tu qua no? deve andare sempre dritto, sempre dritto la casa di montalbano non lo so dove si trova si deve andare sempre dritto a punta secca non lo so dove PER